Ciao, benvenute a tutti e a tutti su Miss Lila 001, in questo video mi vedete in cucina perché sarà un video spacchettamento, un video spacchettamento per me molto speciale perché ero in trepida attesa di un pacco che non vedevo l'ora che arrivasse perché oltre a contenere delle cose che sono curiosissima di provare e molto contenta di aver acquistato un kit, diciamo un pacco creato in collaborazione con una delle mie youtuber preferite e il kit in questione è il kit casa dell'angolo del focolare ecco qua, chi già segue Valentina che è appunto l'angolo del focolare saprà che lei utilizzava prodotti detergenti per la casa e per il bucato biologici, ecocertificati, rispettosi dell'ambiente e della natura e utilizzava appunto prodotti della Green Natural e adesso ha fatto una collaborazione proprio con Green Natural e hanno creato dei kit indispensabili per la casa e per il benessere della persona ogni kit oltre a dei prodotti veramente eccezionali contiene anche un calendario dell'angolo del focolare che appunto ha creato lei in collaborazione con Green Natural ma adesso andiamo a vedere i kit sono vari, ci sono il kit che ho preso io, quello da 26,90€ che è un indispensabile contiene un po' di prodotti che adesso andiamo a vedere insieme e tra l'altro stavo leggendo che è carinissima la scritta che hanno messo sulle scatole è Save Nature Use Me quindi per i prodotti appunto che sono contenuti consigliano di utilizzare questi per salvaguardare la natura ah, se vedete ogni tanto la porta che si apre e si chiude sono i gatti e poi ci sono altri kit un kit un pochino più completo sia per la casa che per il corpo un kit totalmente dedicato alla casa con tantissimi prodotti casa e poi solo kit corpo quindi diciamo si possono scegliere vari kit io ho scelto il kit base per la casa perché allora io sapete che utilizzo generalmente detergenti tradizionali per la casa magari vado da quei saponi e per sop compro quelli che sono in offerta ma sto cercando comunque di avvicinarmi all'utilizzo di prodotti biologici perché comunque non fanno male all'ambiente, non fanno male a noi e anche avendo comunque degli animali in casa che magari spesso vanno a bere nel lavandino eccetera, comunque pulirli con detergenti che non siano aggressivi né per loro né per noi mi fa altro che piacere quindi assolutamente sono contentissima del mio acquisto quindi niente direi bando alle ciance andiamo a spacchettare insieme questa scatola che appunto è bella grossa e vi lascerò poi magari qua sotto il link del sito di Green Natural che a sua volta contiene dei link di negozi sia online che anche fisici nelle vostre città che rivendono questi kit io personalmente l'ho acquistato dalla Spesa Verde www.laspesaverde.it e magari vi lascerò proprio anche il loro link perché sono stati tra l'altro velocissimi perché l'ho ordinato domenica sera e arrivato oggi che è martedì quindi assolutamente velocissimi adesso andiamo ad aprire insieme il pacco ok così andiamo subito a vedere il contenuto insieme allora innanzitutto il pacco è ben imballato perché appunto vedo che c'è un sacco di carta per tenere i prodotti fermi e al sicuro e questo lo trovo una cosa che io gradisco sempre tanto perché la cura già del pacco è anche l'indice della cura proprio del negozio dei prodotti che sono contenuti all'interno quindi vado subito a rimuovere tutta la carta e cominciamo con i prodotti allora all'interno del kit troviamo un detergente per pavimenti con oli essenziali biologici di timo, titri e lavanda ed è questo e sono veramente curiosissima di provarlo perché appunto igienizza è sicuro sia per gli amici più piccoli che per gli animali è appunto è un prodotto ecobio concentrato testato per nickel, cromo, cobalto senza profumi sintetici e coloranti contiene appunto olio di lavanda ecobio certificato ICEA ed è un prodottino veramente secondo me da provare ma poi magari ve ne parlerò successivamente farò proprio un video dove magari testiamo insieme i prodotti poi questo kit contiene anche il famosissimo multiuso di Green Natural che appunto usa sempre Valentina ed è un multiuso con olio essenziale biologico di menta e eucalipto all'ossigeno attivo anche questo ecobio certificato ICEA e non vedo l'ora di provarlo perché questo va bene veramente su tutte le superfici perché può essere anche utilizzato addirittura come smacchiatore igienizzante per la biancheria quindi veramente con tutto adatto alla pulizia e sanificazione di sanitari rubinetti, cromature, box doccia, pestelle pieni cottura, acciaio, inks, pavimenti eccetera quindi veramente è un multiuso proprio un multiuso quindi appena avrò finito quello della Winnis che avete già visto in un mio video dove lo consiglio perché comunque è un prodotto naturale comincerò a utilizzare lui poi questo kit contiene anche uno sgrassatore con olio essenziale di titri e limoni biologici anche questo per molti superfici ed è appunto questo anche lui appunto è adatto contro lo sporco ostinato per forni, piani di lavoro, attrezzature da cucina, cappe eccetera contiene saponi vegetali e titriol biologico olio essenziale delle note caratteristiche quindi assolutamente anche questa questo curiosissima di provare poi altro prodotto contenuto nel kit è l'anticalcare sempre di Drain Natural con olio essenziale di eucalipto quindi questo qua è adattissimo alla pulizia del bagno quindi tutti i sanitari le rubinetterie quindi non vedo l'ora di utilizzarlo poi contiene il detergente per vetri e specchi con olio essenziale biologico di limone anche questo e anche questo è strasponsorizzato benissimo da Valentina e non vedo l'ora di utilizzarlo poi contiene il detergente per piatti con aloe e olio essenziale di limoni biologici anche questo ecobio naturalmente arricchito con aloe vera ed è un 500 ml quindi comunque un bel po' di prodotto poi altro prodotto contenuto è questo detergente per le mani ecobio mani e corpo alla mente arancio che deve essere buonissimo non vedo l'ora di utilizzare e poi c'è un omaggio in tutte le scatole e andiamo a vedere che cos'è ah che carino è un quadernino un'agenda piccoli gesti per un mondo migliore di Green Natural ed è un'agenda senza date quindi voi potete organizzarvela come volete avete da un lato la lista della spesa stavo guardando è carinissimo perché appunto da un lato c'è la lista della spesa quindi potete scrivere tutto ciò di cui avete bisogno la frase della settimana ecco scusatemi se vedete delle interferenze ma come avete visto è arrivato il gatto che lui si intruffola sempre ovunque comunque in questa agenda carinissima potete mettere la frase della settimana anche gli appuntamenti extra le pulizie settimanali e i buoni propositi oltre che tutti gli appuntamenti che avete durante i giorni vari la trovo veramente carina e simpaticissima quindi sono molto contenta di questo omaggio contenuto all'interno di questa box e poi naturalmente il pezzo forte secondo me è il calendario appunto del 2019 di Valentina dell'angolo del focolare che adesso andiamo a aprire insieme ed è lui eccolo qua finalmente un calendario ricco di spunti per vivere la tua casa senza ansia senza stress e in modo green infatti in questo calendario sono contenuti un sacco di consigli appunto per la casa per le pulizie e adesso andrò subito ad appenderlo in cucina e utilizzerò tutti i consigli per esempio nel mese di luglio vedo che consiglia di come tenere la lavatrice efficiente scelte ecologiche per un mondo migliore sono un sacco di cosine carine quindi sono veramente contentissima di questo calendario e nulla questo era tutto quello contenuto nel kit degli indispensabili da 26,90€ vi lascio qua sotto appunto il link innanzitutto al video di Valentina vi lascio il link a Green Natural e anche alla spesa verde che appunto ho il sito dove ho effettuato l'acquisto e nulla io vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale attivate la campanellina per non perdere i prossimi video mettete un like di supporto e seguitemi anche su Instagram e nulla io vi saluto vi mando un grosso abbraccio un bacione e ci vediamo alla prossima ciao